Buongiorno e bentornati al nostro appuntamento con ITG Approfondimenti. Con la consegna degli attestati di frequenza si è concluso il primo corso di saldatura pratica della durata di 120 ore tenuto da IS presso l'Istituto Professionale Ipsia Calapso di Siracusa. Al corso hanno preso parte 17 studenti della quinta A interessati ai processi MAG ed elettrodo rivestito. Alla manifestazione era presente oltre al preside professore Antonino Gimmillaro l'onorevole Bruno Marziano della quinta commissione istruzione della regione Sicilia e l'assessore alla pubblica istruzione e formazione sempre della regione Sicilia il dottor Mario Centorrino. L'onorevole Marziano e il dottor Centorrino nel discorso di apertura hanno concordato con il professor Gimmillaro sulla necessità di cooperazione tra industria e scuola al fine di formare tecnici specializzati pronti ad essere immessi nel ciclo produttivo delle aziende presenti sul territorio. Il 6-7 settembre 2012 si svolgerà a Rimini Airet Excellence Technology, la mostra a congresso internazionale dei processi tecnologici, della sub-fornitura, dei componenti, dei materiali innovativi e dei servizi avanzati per l'industria dell'aeronautica e delle tecnologie connesse. Potete seguire tutte le novità dell'evento e collegarvi al sito www.airet.it. Per qualsiasi ulteriore informazione e approfondimento potete rivolgervi alla segreteria organizzativa Airet. Sono aperte le iscrizioni all'edizione 2013 di Maxpe, l'appuntamento annuale dedicato alle tecnologie per l'innovazione che si svolgerà a Parma dal 21 al 23 marzo 2013. Per ulteriori informazioni a riguardo e per chiedere la documentazione potete consultare il sito www.maxpe.com. Vi ricordo infine la scadenza del 30 giugno 2012 per poter aderire a Compotec Sitec 2013 che si svolgerà dal 6 all'8 febbraio 2013 a Carrara, usufruendo dello sconto del 10% sulle tariffe ufficiali. Per informazioni non esitate a contattare lo staff di Carrara Fiere all'indirizzo mail m.musumeci.it. Per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e un buon weekend.